Miniclubman Abitabilità e Comfort Abbandonata la soluzione della porta posteriore asimmetrica, con apertura controvento, in favore di una soluzione con le classiche 5 porte La terza generazione di Klebman, seconda dell'era BMW, diventa quindi una vera e propria wagon, senza perdere però le caratteristiche di handling e piacere di guida tipiche di Mini È già ordinabile con prezzi che vanno dai 24.800 euro della Cuper 3 e cilindri in allestimento base, ai 31.600 euro della sportivissima Cuper S da 192 cavalli, top di gamma Non manca una versione Cuper D, disponibile anche in allestimento business, con cambio automatico Lamborghini Riproporre il DNA delle sue inconfondibili supercar in una linea di abbigliamento con capi casual e sportivi ma anche classici e rigorosi È il tema sviluppato dalla nuova collezione automobili Lamborghini Tutti i capi sono accomunati da grande qualità, materiali innovativi e design dalla forte personalità BMW, buon compleanno Serie 3 La bestseller di BMW compie 40 anni, e per il lancio della nuova generazione la filiale italiana della Casa di Monaco Ha deciso di allestire 100 esemplari numerati, 40 years edition La vettura che verrà presentata mercoledì alla stazione Leopolda di Firenze, è una 320D Touring con trazione integrale X-Drive, e allestimento M Sport, con verniciatura individual metallizzata tanzanite blu, interni in pelle con cuciture a contrasto, e moda nature piano black Il propulsore è il 4 cilindri 2.0, con tecnologia BMW Twin Power e turbo da 190 CV e ben 400 Nm, abbinato ad una trasmissione automatica ad 8 rapporti, con configurazione sportiva e padelz al volante Cerchi sportivi da 19 pollici, impianto frenante M Sport maggiorato, con pinza con logo M, ed una dotazione tecnologica completissima, fanno parte del pacchetto speciale Ogni vettura sarà inoltre venduta, con un set da viaggio composto da un trolley e uno zaino firmati P-Quadro A domani per altre news